Pari al 146.966 euro da dare a un avvocato per le gestioni precedenti, sfiduciatemi. Mi dovete sfiduciare per la sanità e l'insolvenza. Mi dovete sfiduciare. Sono qua per essere sfiduciato. Ad oggi, marzo 2018, tutto ciò su cui credevo, la parola fiducia, si è sgretolata, è venuta a mancare, si è interrotta, la fiducia avesse il sindaco. Perché ti ci mettete la tua stessa tabella? Perché aprite la tua tabella? Il ristorante di minardi, di minardi, perché l'appriti? Perché ce la metti? Perché ne fai tesoro di questi totem? Dal momento che poi tu dici che è stato uno sferterio di denaro per la segnaletta che ti serve, comunque per la tua tutela, no, non è un attacco alla persona. Partecipava in gran segredo, ad altri unioni, con gli studenti dell'opposizione. Labbia, sindaco. Ora passeremo all'approvazione della mozione di sfiducia per appello nominale. Allora, chiede accordo alla mozione di sfiducia al sindaco Giuseppe Mirarchi. Ora il signor segretario procederà ad appello nominale. Mi scelte. Chiavaro. Burganetta. Astenuta. Stropano. Favorevole. Lupo. Favorevole. Chiarabida. Chiarabida. No, frega tutte le volte. Favorevole. Io la dico. Mi devo scusare, eh? Eh, se si vuole. Mitrico. Favorevole. Drovetti. Favorevole. Nardo. Favorevole. Baldo. Favorevole. Pisana. Favorevole. Rocca. Favorevole. Anievi. Favorevole. Allora, favorevole 12, astenuti 2 su 14 votanti e la mozione di fiducia del sindaco. Giuseppe Mirarchi è stata approvata in questa sede. L'assessorato dovrà provare di conseguenza alla nomina di un commissario che ritengo debba essere una cosa molto, molto rapida. Lo farò presente personalmente. A caldo, a caldo, ne prendiamo atto, vedremo di capirne meglio le motivazioni, le ragioni in sé comunque legittime, impugnerò il provvedimento, ecco, vediamo cosa succederà a seguito del provvedimento e comunque l'appuntamento è un po' più certo e per le prossime elezioni amministrative. Grazie. Grazie.